Non è che per caso Mike Buongiorno frequenta questo posto? Mike Buongiorno? Dice Mike! Ecco! Vai! Valevate ste catene! Dobbiamo tornare a casa! Io sto girando con sto smoking da giorni! Ma io sono ancora in vacanza! Ma dobbiamo fare la pubblicità! Infostrada ti regala 200 euro e non paghi il canone Telecom! A me non hanno regalato mai niente in tutta la mia carriera! Infostrada lo fa! Tutto incluso, sconto di 200 euro è regalo per te! Ma cos'è? Un casco da moto o da parrucchiere? Non hai un capello in sciopera? Chiamo al 159! Grazie a tutti!